La Color Run dell'abbraccio Uno stand pieno di abbracci e poi tutti in marcia verso il punto blu Blu è il colore Piccoli e grandi, in fila per raggiungere la postazione Ed ecco il punto blu La bandiera dell'abbraccio e tanti abbraccini in attesa di iniziare le danze Bisogna prepararsi Le spiegazioni dell'organizzazione e di Giorgio il presidente Più che spiegazioni, raccomandazioni La 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 Si incrociano persone, colori, sorrisi. Si incrociano persone, colori, sorrisi. Nell'attesa ci si riposa e ci si prepara a tanti, tanti abbracci. Ma quando si inizia? Ginnastica preparatoria e abbracci di prova. Le impostazioni si preparano. Ed ecco gli abba e l'abbraccio si scatena. Rock! Bevande energetiche per i corridori. Colori, colori, colori. Ed ecco il primo corridore a arrivare. E con lui le prime nuvole azzurre. Ginnastica preparatoria. Ginnastica preparatoria. Ginnastica preparatoria. Ginnastica preparatoria. E via! Colori, abbracci in un tripudio di amicizia e di allegria. Ginnastica preparatoria. Ginnastica preparatoria. Ginnastica preparatoria. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Migliaia e migliaia di abbracci al punto blu. Anche questo è l'abbraccio. 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 Ache voi. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti